non giocare sulle parole non giocare sulle parole stai caldo stai caldo non ti permetto di parlare in questi termini un consiglio comunale travagliato e colmo di novità detta dai tre consiglieri di minoranza quello andato in scena lo scorso 8 novembre 2018 nel corridoio del palazzo elementare di Bisenti ce lo riferisce il consigliere di minoranza ingegner Manolo Pierannunzio al microfono dell'avvocato Luca Salini di nuovo con il consigliere Manolo Pierannunzio riprendiamo questo discorso che abbiamo interrotto qualche mese fa ogni tanto è anche importante aggiornare la popolazione su quello che si fa per il paese anche sull'attività della minoranza il cui ruolo è sempre determinante per il buon andamento dell'amministrazione comunale ripeteremo anche in futuro queste esperienze anche magari con altri protagonisti abbiamo oggi il consigliere di minoranza Manolo Pierannunzio reduce dalle fatiche tra virgolette dell'ultimo consiglio comunale ecco le tue impressioni, un bilancio so che magari c'è stato anche qualche attimo di tensione sì innanzitutto volevo ringraziare te Luca e Luigi per lo spazio che ogni volta ci congedete partendo dal consiglio comunale sì effettivamente c'è stato qualche momento di tensione quando parlavamo del discorso delle lucette cimiteriali nel senso che noi della minoranza abbiamo proposto una mozione affinché venisse sospeso il canone per le lucette cimiteriali da marzo fino ad oggi perché ovviamente i cittadini non hanno soffrito del servizio per diverse motivazioni questa proposta non avevo dubbi è stata bocciata all'unanimità da parte della maggioranza anche se sono trapelate delle indiscrezioni circa il fatto che comunque qualcuno di loro avrebbe voluto votare a favore ovviamente poi come abbiamo detto ci sono anche diverse motivazioni che possono essere quelli politici piuttosto che di gruppo piuttosto che altre dinamiche che hanno spinto tutti quanti a votare contro ovviamente io quello che chiedo pensavo di aver fatto insomma una cosa abbastanza normale perché quando noi cittadini non usufruiamo di un servizio ad esempio telefonico o altro noi la prima cosa che facciamo è quello di chiedere un rimborso a spese quindi anche in quel caso non vedo per quale motivo i cittadini devono pagare un canone di un servizio per un servizio che non hanno usufruito considerando anche il fatto che chi ha magari 4-5 dei fondi si trova a pagare un importo di circa 100 euro che su un bilancio ad esempio delle persone che percepiscono una pensione di 400 euro è tanto quindi io non credo che nemmeno era necessaria fare questa mozione se la maggioranza, il sindaco, avesse avuto un minimo di buonsenso tale da dover interrompere egli stesso il canone per i cittadini E tu come interpreti questa situazione? Ma questa situazione è alla luce anche di quello che è stato detto dal vice sindaco riguardo Bisenti che ha due sindaci, uno del paese e una della campagna io l'interpreto dicendo che all'interno della maggioranza come sono tante le voci che circolano c'è una frattura, quindi questo ne è l'evidenza ma come anche è stato ribadito dal vice sindaco che ci sono due sindaci, quindi uno per la campagna e uno per il paese quindi da questa cosa io ci vedo una presa di posizione da parte del vice sindaco rispetto al sindaco il quale gli stesso afferma che se certe azioni non verranno fatte mi riferisco a quelle dei piccioni, quindi la problematica dei piccioni e il campanile e gli stesso aggirà, il vice sindaco, quindi aggirà di sua spontanea volontà quindi inutile girarci attorno, noi cittadini ovviamente non siamo stupidi quello che si legge è proprio questo, quindi un'aria poco serena all'interno delle fila della maggioranza anche considerando le diverse assenze che ci sono durante i consigli comunali anche il fatto che alcuni componenti della giunta non partecipano alle giunte stesse quindi ci sono purtroppo questi segnali ed è un peccato Lasciamo per un attimo la politica proprio comunale si sono tenute qualche giorno fa le elezioni provinciali con una sonora e anche sorprendente sconvitta del candidato di centrosinistra tu come vedi la situazione nel partito democratico ma nel centrosinistro in generale che è uscito abbastanza lacerato? Beh allora come vedo il centrosinistro, il centrosinistro è questo quindi le analisi di voto sono stati, le analisi di voto è già stato fatto da illustri personaggi politici che hanno più esperienza rispetto al sottoscritto quindi io non dico di voler fare politica ma ho sempre sostenuto di mettermi a disposizione per i cittadini quindi il centrosinistro ripeto è questo quindi molti hanno fatto già l'analisi di voto sicuramente è stato, stando anche a quello che è stato scritto sui giornali una sorpresa per il centrosinistro avendo dalla loro parte anche una serie di numeri ovviamente mi viene anche dall'altro lato quindi di augurare un buon lavoro al nuovo presidente della provincia di Buonaventura e spero che egli stesso comunque ha un occhio di riguardo per le aree interne che sono poi le aree più disagiate Ultima domanda, quali sono i progetti del gruppo di ignoranza al comune di Bisenti? Quali iniziati intendete portare avanti per il futuro anche in vista delle elezioni che si terranno nel 2020? Il rinnovo del consiglio comunale che si terrà nel 2020? Allora quello che a me comunque piacerebbe fare innanzitutto è non deludere i cittadini quindi andare avanti con una serie di proposte utile per il paese e per il territorio che cosa vuol dire? Quindi dal verde pubblico al tema sociale alle fasce sociali più deboli non perdere di vista nemmeno anche il centro per lievi che comunque i lavori dovrebbero essere ultimati speriamo nel giro di qualche mese abbiamo anche la necessità della strada la 365 quindi che speriamo tornerà anche di competenza dello Stato quindi ripeto oltre a questo ovviamente il nostro cavallo di battaglia sarà anche la piscina quindi fare in modo che possa essere come era prima quindi fare una serie di proposte a livello turistico e soprattutto anche per quanto riguarda il verde pubblico che comunque deve essere sicuramente più curato e sicuramente deve essere messo a posto e quindi sistemato poi manca ancora un anno, un anno e qualche mese il mio sogno è quello comunque che i cittadini possano scegliere il loro candidato e soprattutto scegliere le persone che poi l'andranno a rappresentare senza autoproclamazione in quanto poi le autoproclamazioni creano soltanto attrito e spaccature tra le persone Nell'ultimo consiglio comunale di qualche giorno fa si è parlato anche della situazione quindi del 118 e anche del progetto Paride erano dei punti all'ordine del giorno, ci vuole illustrare la vicenda? Sì, allora per quanto riguarda il 118 diciamo che la maggioranza ha chiesto una mozione affinché coloro ai quali avessero problemi legato ad esempio infarto alto, quindi problemi al cuore il paziente venisse trasportato direttamente a Teramo piuttosto che ad Atri ovviamente noi abbiamo avuto un primo momento di perplessità e proprio per questo abbiamo proposto anche un emendamento che poi è stato votato cioè è quello di chiedere anche al direttore generale della ASL un medico a bordo dell'ambulanza le nostre perplessità iniziali erano legate al fatto che erano stati esclusi comunque dal tavolo di confronto una categoria molto importante che poi è quello rappresentato dai medici considerando anche che i medici che abbiamo a Bisenti sia essi guardiamediche sia insomma medici condotti hanno grande esperienza a riguardo basta pensare al dottor Sierri il quale anche lui ha fatto parte del 118 piuttosto che Osvaldo di Andrea, piuttosto che Piccari Ernesto, di Martino Giuseppe e così via quindi ripeto a nostro avviso doveva essere un argomento discusso non solo nel Consiglio Comunale ma doveva essere discusso insieme ai cittadini e insieme ai medici e con il direttore generale della ASL questo affinché si potesse trovare una soluzione che poteva essere condivisa e valutata volta per volta perché il mio dubbio è questo, ok diamo l'input di portare il paziente a Teramo ma se Teramo ha altri già 10 codici rossi oppure ci sono tutta una serie di problematiche non lo so, legate alla neve, ghiaccio o quant'altro è inutile trasportarlo in quella struttura e quindi io auspico che ci possa essere in questi mesi un ripensamento quindi da parte anche del sindaco nel convocare medici, cittadini in modo da dare una soluzione condivisa Progetto Paride? Progetto Paride, il Progetto Paride allora purtroppo è stato l'ennesimo progetto fallimentare di questa amministrazione basta pensare oltre al Progetto Paride anche 700 mila euro che l'amministrazione ha perso per il recupero dell'ex mattatoio ma per quanto riguarda il Progetto Paride Luca io ti faccio una domanda se a te oggi chiamo un operatore telefonico e ti dice che ha un'offerta più vantaggiosa tu la prima cosa che gli chiedi a mio avviso è il costo, giusto? e purtroppo ancora una volta il sindaco è venuto in Consiglio Comunale dicendo che voleva uscire dal Progetto Paride perché voleva risparmiare ovviamente ci sono punti di vista diversi, posso essere anche d'accordo però il sindaco avrebbe dovuto comunque portare già una bozza, un'analisi tecnica economica cioè non si può chiedere di risparmiare quando non conosci nemmeno le cifre della ditta che eventualmente vorrà gestire l'illuminazione pubblica può darsi anche che la ditta per il costo chiesto dal Progetto Paride può darsi che la ditta, ripeto, chiede un costo superiore e quindi ci possono essere più che risparmi poi buttare soldi dei cittadini proprio per questo, siccome io voglio vederci chiaro a breve vorrei incontrare la ditta che si occupava del Progetto Paride e chiedere tutta una serie di informazioni e parlare soprattutto anche di costi perché non è soltanto l'illuminazione pubblica legata al Progetto Paride ma è tutta una serie di benefici che i cittadini potevano avere e non capisco nemmeno come mai tutti gli altri comuni della Valfino portano avanti questo progetto e Bisendi è fuoriuscito oltre al fatto che bisogna pagare diverse migliaia di euro per poter fuoriuscire dal Progetto Paride perché la ditta che si doveva occupare del progetto ha già effettuato una serie di rilevazioni dei punti luci per quanto riguarda consumi ed altri e quindi quei soldi il Comune lo deve restituire alla provincia e quei soldi sono soldi dei cittadini ovviamente Il tema viabilità che è un problema che tocchiamo con mano ogni giorno tanti pendolari si mettono in movimento comunque la situazione delle strade non è ottimale cosa è emerso nell'ultimo consiglio e comunque quali sono le vostre posizioni in merito? Allora per quanto riguarda la viabilità come per il tema dell'occupazione è stato uno dei nostri cavalli di battaglia tant'è vero che proprio a marzo noi facemmo una mozione affinché chiedevamo al sindaco di istituire un tavolo tecnico con l'ex presidente della provincia di Sabatino affinché insieme agli altri sindaci si poteva dare uno spunto sulla 365 quindi per farla tornare di competenza statale ovviamente oggi siamo a novembre il presidente della provincia è cambiato e il sindaco non ha fatto nulla quindi per noi è inutile tornare sul discorso dell'importanza della 365 di competenza statale poi ho sentito anche una dichiarazione per quanto riguarda i soldi che comunque sono stati presi o meglio affidati al comune di Bisendi per la manutenzione della viabilità comunale io sono favorevole speriamo che questi soldi vengano destinati al nostro territorio alla nostra viabilità ma è anche vero e spero che quei soldi non sono nello stesso camion che doveva venire a Bisendi tre anni e mezzo fa per portare i soldi del centro ENAIL perché più volte purtroppo siamo stati abituati a delle false affermazioni che poi con il tempo non si sono verificate insomma non si sono verificate quindi non erano assolutamente vero ripeto noi abbiamo mostrato fin dal primo tempo anche una certa cooperazione per quanto riguarda il masterplan sollecitare lo stesso consigliere Monticelli fare delle proposte anche al presidente della provincia per la strada di Chioviano che comunque in condizioni pietose la stessa di Colle Marmo San Martino in più occasioni abbiamo parlato anche con l'assessore Pepe affinché si potesse individuare una soluzione per fare manutenzione alla strada proprio di San Martino perché ripeto verso in condizioni disastrose staremo a vedere se effettivamente queste risorse saranno disponibili per il nostro territorio e mi auguro che esse lo siano essendo anche io cittadino di Bisendi ma questo masterplan che succederà secondo te? bella domanda noi eravamo stati abituati al fatto che il masterplan iniziasse già da diversi anni fa ovviamente voglio anche spezzare non una lancia a favore del masterplan di chi gestisce anche il masterplan in quanto ci sono state tutte una serie di ricorsi per quanto riguarda insomma la ditta che ha avuto in progettazione insomma l'intera struttura capisco anche comunque parliamo di una cifra molto importante quasi 8 milioni e mezzo di euro capisco anche le difficoltà nel gestire gli 8 milioni e mezzo di euro insieme ai comuni della Valfino perché ovviamente inutile negarlo poi quando il comune capofila gestisce una cosa del genere c'è sempre qualcuno che non dico gli metti bastoni tra le ruote sai ma non è molto d'accordo poi con le scelte condivise io spero comunque che questo masterplan possa iniziare ormai siamo alle elezioni regionali insomma pare che il governo 5 Stelle e Lega avessero tolto i fondi destinati al masterplan Abruzzo adesso pare che siano stati ridestinati ripeto essendo cittadino della Valfino io sono un come dire un tifoso del e per il masterplan pur essendo consapevole delle enorme difficoltà che comunque ci sono però purtroppo c'è anche da dire che noi cittadini della Valfino siamo abituati ad avere delle false illusioni basta pensare all'otto del lavomano fino che ne parliamo da anni e purtroppo è ancora lì quindi niente incrociamo le dite speriamo che il masterplan inizierà il prima possibile ringraziamo il consigliere per annunzio TVBIS vi dà appuntamento alle successivi incontri grazie e ringraziamo anche TVBIS per l'opportunità dello spazio